Come hai visto la squadra in questa settimana di lavoro posta a Vellino? Comunque a Vellino un'ottima trasferta, la prima di Aglietti. A Vellino abbiamo dato un'ottima risposta sul campo, soprattutto non prendendo gol. Siamo stati sempre compatti, abbiamo rischiato veramente poco. E ora dobbiamo fare uno scalino in più in avanti e cercare di portare a casa i tre punti perché sono fondamentali adesso. Si è rivista da Vellino un'entella che prova a imporre il suo gioco anche in trasferta, che poi era una delle caratteristiche dell'entella di Aglietti. I punti si fanno soprattutto in casa, ma le vittorie fuori casa sono ancora più importanti, valgono doppio. Più punti facciamo fuori casa, più arriviamo alla nostra quota di salvezza e più siamo tranquilli. Dal punto di vista del modulo il Venezia che arriva sabato gioca come l'Avellino. Che tipo di partita ti aspetti? Comunque il Venezia è una delle capoliste del torneo. Ma il Venezia è un'ottima squadra e stiamo preparando la partita su di loro e cercheremo di fare un'ottima prestazione e di portare a casa un ottimo risultato per superare qualche altra squadra in classifica. Tralasciando il lato tecnico-tattico, che cosa ha portato, dal punto di vista della mentalità Aglietti, cosa ha riportato l'entella? Secondo me adesso è presto da dire, però sta riportando serenità e compattezza nel gruppo. In campo, secondo me, già si è visto da Vellino un'idea difensiva, dove però quando ricoveravamo palla cerchiamo sempre di andare a fare male alla squadra avversaria. Ora debbiamo essere un po' fortunati a fare gol e non prenderlo.